In una società moderna dove i ragazzi hanno i cellulari in mano, insomma, tornare indietro nel passato, scoprire quelli che erano anche i luoghi della città di Canegatì, che siamo a Borgarino e quindi la location è già caratteristica e far scoprire quello che è il senso del Natale con il presepe. Non è Natale senza presepe? Ma mi pare eccessivo dire che questo sia un ritorno al passato, perché se l'evento della salvezza avviene nella storia, cioè nell'oggi, i giovani e gli uomini e le donne dell'associazione che sta lavorando per allestire questo presepe sono uomini, donne e giovani di oggi, che danno una risposta all'oggi e nell'oggi a questo grande evento, tant'è vero che il percorso culmina nella grotta. Presepe, come sappiamo, viene da un termine greco, latino, che vuol dire presepire, cioè chiudere con delle siepi, quello che è lovire, la mannara, e in questo contesto sempre è nato già dei tempi greci, addirittura pre-greci, prima ancora del cristianessimo, che si allestivano queste scene per qualche evento particolare. I monaci e gli eremiti nel Medioevo, prima ancora di San Francesco, facevano questo la notte di Natale con delle grandi statue da mettere in chiesa per ricordare questo ovile, questa stalla, per l'incarnazione nella storia e nell'oggi, per celebrare il Natale dell'oggi. Qual è stata la grande intuizione invece di San Francesco? San Francesco ha fatto che mentre prima c'erano queste grandi statue, per esempio nella cattedrale di Torcello a Venezia nell'undicesimo secolo, oggi abbiamo queste grandi statue, sono la Madonna in trono con i Maggi, successivamente arriverà San Giuseppe, e mise il bue e l'asinello veri con un bambinello vero, cioè una sacra rappresentazione, e in questo oggi abbiamo la tradizione del presepe vivente. La tradizione dei nostri presepi, più che altro, è una tradizione gesuitica. Sant'Ignazio di Loyola, fondatore dei Gesuiti, non fa altro che dire sempre la composizione del luogo, una sorta di teatro per coinvolgere maggiormente, e da qui nasce il presepe napoletano, che veniva fatto sempre nelle chiese, sarà soltanto con Zangaitano Dattiene, fondatore dei Teatini, che il presepe arriva nelle case. Quello che fanno oggi a Canegati, i nostri giovani, è quello di dare un significato originario ed originale del presepe cristiano, dell'evento della salvezza, non una fiera di arte e mestieri, o soltanto delle cose del passato, ma sono cose nell'oggi, tanto è vero che il percorso sarà accompagnato quest'anno ad alcune frasi di sollecitazioni per richiamare questo tema, e culminerà proprio nella grotta dell'incarnazione. C'è sempre, diciamo, il problema presepe o albero? Molti preferiscono albero che è più sbrigativo, altri invece allestiscono comunque in maniera tradizionale il presepe nelle proprie case. Oggi c'è ancora questa tendenza? Sono due aspetti complementari. Il presepe, nella tradizione, quella che facciamo noi, che è quella, ripeto, gesuitica, proprio dell'evento della nascita, è una adorazione, una contemplazione, la Madonna, San Giuseppe e il bambinello al centro, con i maggi. Sarà proprio col congiro di Trento, con le figure di Santa Teresa d'Avola e di San Ignacio di Ruiolo, che arriva la devozione a San Giuseppe maggiormente. L'albero di Natale non è di tradizione mediterranea. Il presepe, come dicevo prima, già c'è nel mondo greco, forme diverse di questi teatrini, anche nel mondo egiziano, queste cose che venivano allestite per alcune occasioni, oppure restavano sempre fermi, come abbiamo le testimonianze di quelle egizie. Orbene, l'albero di Natale viene dal nord Europa, ma ha anch'esso un significato profondamente cristiano. L'albero che d'inverno si illumina, e la luce dell'inverno è Cristo, la luce nell'oscurità dell'inverno è Cristo, a questo punto è l'albero che dà i doni, e i doni dell'albero erano una tradizione che adornavano con doni, con frutti rossi o bianchi, un po' come quando una volta si facevano le figureggi con i fiori d'arancio. E il rosso e il bianco, che sono i colori del Natale, sono i colori dell'Eucaristia, il sangue e acqua che sgorga dal costato di Cristo sull'albero della croce. Quindi è anch'esso cristiano l'albero di Natale. Sono due forme complementari che si completano, la narrazione, la descrizione per un'adorazione, una contemplazione, il presepe, che non è un evento mondano di collezionismo, di antropologia storica, e l'albero di Natale, che non è soltanto per abbellire o decorare o mettere lustrini, ma ha anch'esso un significato cristiano. Grazie a tutti.